Sedi di partito nel mirino dei movimenti riconducibili ai Novax. Sono tornati in un blitz notturno imbrattando di frasi ingiuriose con vernice spray rossa gli ingressi, muri e vetrate di alcune sedi di partito, atti vandalici che non si sono limitati alle sole scritte ma anche a locandine satiriche indirizzate al presidente della regione. In zona fiera la sede del Partito Democratico, così come la sede della Lega a poca distanza in via dell'oreficeria che lo scorso anno era già stata imbrattata con scritte e simboli contro le vaccinazioni anti-covid-19 e contro il Green Pass. Forma di protesta che torna a farsi sentire nonostante la fine delle limitazioni che erano in vigore durante la pandemia. Indagini in corso per risalire ai responsabili e condanna ferma del gesto da parte del mondo politico. Il di là di come la si pensa imbrattare le sedi dei partiti non risolve sicuramente quelli che sono o possono essere i loro problemi. Sarebbe ora anche di individuare i responsabili perché oltre a imbrattare le sedi dei partiti ci sono le minacce anche nei confronti ad esempio del governatore Luca Zaia che continuano. Quindi sono persone che vanno sicuramente prese il prima possibile, bisognerebbe fargli pagare anche dal punto di vista penale quello che fanno e in secondo luogo anche poi magari far pulire perché quello che fanno nei confronti delle sedi lo fanno anche poi in diversi luoghi della città ed evidentemente questo è un segnale anche negativo. Quindi a prescindere ripeto da come la si pensi condanna ferma rispetto a questi atti.